speciale punto croce di novembre in edicola con le anteprime natale in più l'originale alberello giorno mi chiamo forest forest gum talmente candido da sembrare diverso forest si trova esattamente qui lei è stupido che stupido è chi lo stupido fa signore e se il mondo non è come gli piace lo ridipingerà a modo suo è quello che diavolo è è solo l'idiota del paese la vita è uguale a una scatola di cioccolatini non so mai quello che ti capita tom hanks è forest camp lunedì 3 novembre su canale 5 speciale punto croce di novembre in edicola con le anteprime natale in più l'originale alberello lì dove la terra continua a tremare nelle regioni ferite dal sisma tra la gente che vive la paura un viaggio di maurizio costanzo nei luoghi della tragedia per testimoniare l'emergenza per incontrare gli sfollati per raccontare la voglia di ricominciare a un mese dalla prima scossa in diretta su canale 5 nella terra che trema viaggio di maurizio costanzo venerdì alle 21 un, due, tre, tiramisù il nuovo varietà di Pippo D'Auto stasera 20.50 su canale 5 con nuova forneria vi ricorda le sue golose bontà bonbì, girella, yo-yo, cioccoli siamo tutti cantautori poeti ma in compenso mangio alla torta tiramisù doppiatori non dobbiamo mentire eri morto appletto da lui anche un po' i investigatori ma si può sapere chi l'ha rubata sta collana? sì o no? concorrenti con amici e parenti non ne ho la più pallina di te tutto questo e ancora di più con Pippo Baudo a tiramisù stasera 20.50 canale 5 non c'è fretta oggi c'è tot giallo facile da stendere pulito e lucido in un attimo il profumo è nuovo in più tot giallo asciuga subito tot giallo lucido, facile e veloce oops Tutankhamon scopri il suo mistero su Egitto storia, archeologia, mito un'opera ricca e affascinante con video spettacolari Egitto in edicolo al primo fascicolo a 1000 lire con il video 5 e 9 in collaborazione con Franco Rosso Fabri Editori il cammino della storia da sempre si incrocia con quello della religione per questo il Corriere della Sera regala la storia delle religioni del mondo raccontata attraverso le immagini e il Grande Manuale la prima cronologia visuale dall'antichità ad oggi da giovedì a domenica con il Corriere della Sera è un'ottima della scottotica è un'ottima Grazie a tutti